Spero che rispetti il suo impegno. Sai che tipo di donna ha dei saldi principi? Non potrebbe tradire il suo giuramento con uguale. Mi dispiace davvero perché era così vicino a sposarsi con tutto quello che hanno passato. E' definito per colpa di un'estate. Non hai visto chi ti ha fatto cadere? No. Non hai visto chi ti ha fatto cadere?